Era il periodo più cruciale della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa nel 1944 sembrava un cumulo di macerie morale e materiale. E' proprio allora, in un paese della Belga Magna, la Madonna appare ad una bambina di sette anni, Adelaide Roncalli, e le affida messaggi di speranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.